ciao a tutti ragazzi ciao bentornati sul nostro canale youtube oggi video unboxing della play art sky di final fantasy 7 di rufus ecco qua sì allora ho recuperato questa figure che proviene appunto dal remake di final fantasy 7 del capo della shinra ovvero rufus e shinra allora eh sì di lui esistono sia questa che la versione di even children però ho preferito prendere insomma questa qua se non sbaglio ah ok si può anche aprire ok abbiamo già una piccola voilà cavolo tanta roba cavolo qua c'è già tutta la descrizione qui ok vabbè carina come cosa devo dire che si presenta già dalla scatola molto bene e la figura è veramente grande ah sì 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 beh adesso sarà ah faccio vedere un attimo dietro voilà tra l'altro io ragazzi vi ricordo se volete acquistare questa o altre figure dal giappone link in descrizione www.japanshoppingservice.it ok andiamo aprire che tanto sotto c'è solo c'è solo un sigillo da rimuovere e stavo dicendo sì appunto ci sono queste due versioni e comunque ho preferito prendere questa perché tra tutte quelle fatte mi piaceva molto cioè come design e tutto secondo me l'hanno reso anche insomma più bello insomma a livello di vestiario così del dell'originale quindi volevo assolutamente recuperarlo ok va allora qua abbiamo da togliere aspettati facciamo così va allora qui intanto abbiamo le istruzioni e va bene proprio un manualetto vabbè sì tanto stiamo vai no no solleva in alto sì ok perché abbiamo sì va bene allora facciamo così vai solleva dall'altra parte sì eccolo qua oh cavolo tant'è perfetto cavolo è enorme come figure sì davvero porca miseria allora andiamo a levare tutta la plastica del caso cavolo fantastico che è bellissimo sì è anche insomma il vestito che si muove tutto cavolo questa non fatta bene benissimo proprio sì porca miseria decisamente soldi ben spesi allora aspettate che qua cerco di non fare casini che qua la plastica si è incastrata ce la faremo a non fare casini vediamo perché da dove parte aspettate che non capisco qua come gliel'hanno messa io direi di fermare un attimo e dopo 3000 peripezie siamo riusciti a levare anche la plastica di sotto allora intanto lo mostro per bene allora mamma mia che bello ecco qua poi mi piace perché appunto è fatto sì in pvc infatti anche qui sembra più simile non dico tessuto però insomma si sente la consistenza del materiale insomma poi appunto è bellino che qua si sollevano insomma pure i vestiti così è più beh chiaramente snodabile questa action figure fatta benissimo proprio la testa è intercambiabile insomma le mani tanta roba ho davvero fatto molto molto bene bene adesso direi di provare a metterlo in una posa e provare anche a usare il piedistallo allora intanto l'abbiamo messo così col fucile adesso ho cercato di replicare un po' la posa della scatola però vabbè poi con calma vedrò di fare per bene intanto volevo far vedere anche gli accessori che allora vabbè qui ha chiaramente il classico fucile che aveva anche nella versione originale mentre una cosa carina che avevano fatto poi nel remake è che qua ce ne forniscono due perché questo in teoria qui è tutto intero mentre poi hanno fatto in modo che nel gioco potesse dividersi per diventare due pistole ecco poi qua abbiamo la faccia di riserva perché sono identiche e abbiamo le varie mani allora vabbè queste erano quelle che erano già sulla figure questa e quell'altra appunto sono aperte e le altre due per tenere il fucile ecco poi c'è invece questa con le due monete perché appunto gli hanno dato anche queste nel remake dove appunto una c'è scritto Shinra nell'altra allora qui sinceramente non so non so quanto si noti perché vediamo un po' si sono dettagliate perché si questa si vede che è quella lì l'altra insomma sono molto stilizzate quindi insomma non è che uno pretende chissà che dettagli vabbè e nell'altra dovrebbe esserci sopra il cane condannatore ok e niente io direi che quindi possiamo insomma metterlo in un'altra posa allora ora l'abbiamo messo così e mi ero identificata di farvi vedere il piedistallo che allora io sinceramente vedo che la figure sta in piedi anche da sola quindi si se magari uno cerca di farla piegare un pochino magari magari non è più tanto stabile ma in realtà anche con il discorso qua dei piedi che vedete ci sono anche le scarpe che si inclinano sinceramente sta in piedi anche tranquillamente da sola come figure quindi cioè mi sembra un po' antiestetico anche se vabbè fa il suo però ecco e invece non avevo detto che qui sia la pistola insomma insomma il fucile scomponibile per metterlo qua c'è questa parte che si stacca e si attacca e quindi insomma rimane anche per bene insomma non c'è il rischio che si stacchi ecco e niente quindi questa era la figure di Rufus e Sheer che insomma io vi ricordo che se volete acquistare queste altre figure link in descrizione www.japanshoppingservice.it quindi per il video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate o condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao